Catturate gli obiettivi. Stiamo prendendo A. Il nemico ha preso Charlie. Alpha sotto controllo. B sotto controllo. Stiamo prendendo C. Stiamo perdendo A. Nemico a terra! Abbiamo perduto A. E' il segno a terra! Attenzione squadra Delta. UAV nemico individuato. UaV nemico individuato. Ricarico! E' il segno a terra! E' il segno a terra! UaV nemico individuato! Torniamo a fare il suo comando! Missile predito disponibile. I nemici disturbaranno il nostro radar. Stiamo perdendo B. Mi serve un miglior alleato in arrivo. Stiamo prendendo C. C sotto controllo. Abbiamo preso il comando. Stiamo perdendo Charlie. UAV online. ACN alleati in FIT. Stiamo prendendo Alpha. Stiamo perdendo Charlie. Missile predito alleato in arrivo. Tutti gli obiettivi conquistati in posizione. Abbiamo perso C. attacco aereo Delta in arrivo. UAV nemico individuato. Stiamo perdendo Alpha. Aver 2-6. Potete attaccare tutti. Ricevuto. Andiamo. Il nostro Bay Blue è in arrivo. Il nostro Bay Falls non èisso. Sì staiempio. ... Sono tutti i nostri. Ci sono. Fischi. Fisch. Stiamo prendendo P. Stiamo prendendo Charlie. Stiamo prendendo Alpha. Abbiamo perso Alpha. C sotto controllo. Missile Predator pronto al lancio. Arrivederci. Missile Predator pronto al lancio. Missile Predator pronto al lancio. Missile Predator pronto al lancio. Stiamo prendendo C. ACM alleato online. Drone di ricognizione alleato in arrivo. Stiamo perdendo C. Andiamo preso C. Andiamo preso C. Sotto controllo. Sotto controllo. Abbiamo preso B. Abbiamo preso B. Stiamo prendendo Charlie. Stiamo prendendo B B sotto controllo Abbiamo perso B Attacco aereo Delta in arrivo Approfiggio una ventina vicinamente B, lo in atto Hammer 2-6 Squadra Delta, B Risenuto, arrivo Farone d'assalto all'erato in arrivo Stiamo perdendo Alpha Ci stanno schiacciando, conquistate gli abbiattivi Attenzione squadra Delta U avvi nemico individuato Stiamo prendendo B Stiamo prendendo Alpha Stiamo prendendo Bravo B sotto controllo Approfiggio una ventina vicinamente In arrivo Ancciutamente in arrivo Muavi nemico individuato Attenzione squadra Delta U avvi o line Attacco aereo Delta in arrivo Muavi nemico individuato Attacco aereo nemico in arrivo Stiamo perdendo Alpha Abbiamo perso Alpha Attenzione squadra Attenzione squadra Attenzione squadra Madre di tutte le bombe in arrivo Madre di tutte le bombe in arrivo Madre di tutte le bombe alle alte in arrivo Stiamo prendendoci Attenti u avvi nemico in arrivo Sì sotto controllo ACM alleato online Stiamo prendendo A Contrattacco u avvi online Sono cechi Tutti gli obiettivi conquistati Intenta di posizione Stiamo perdendo Alpha Stiamo perdendo Alpha Missili predito alleato in arrivo ACM alleato in attesa A ente nemico in arrivo ACM alleato online Stiamo perdendo